Siamo oggi l'11 di settembre e 51 anni va, c'era l'accidente maio di Garabella a Giacunizia che è stato tramonto la strage posto che l'ha fatto 95 vittime e sappiamo che in questa viaggio c'erano tre leggi dei giughi. Dunque le famiglie di vittime erano stamane conoscono questa commemoriazione e aspettano sempre una risposta di un Stato, aspettano che si bisessi o zigredo di Vesa, di Stato un'allumanda di Barretti e Letti, un'allumanda di nodi o nostro Brzezillante qui all'Assemblea di Gortiga, un'allumanda di nodi o Brzezillante di l'Esecutivo, un'allumanda di un Meredinizza, di l'Associo di Evami e di Evittime, aspettano dunque gli ullumi si avvattano Nanta Safare da Bulefa Uzzodolo. Qui si è passato nel e che si è passato nel settembre e ho visto un'allumanda di Bulefa Uzzodolo. tra le giovani di liti e�� branche e il buonanio di Bulefa Uzzodolo. Grazie.